A partire dal 4 ottobre in Toscana tutti i cittadini che hanno dai 12 anni in su possono prenotare attraverso il portale regionale prenotavaccinosanitatoscana.it la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-covid, detta anche seconda dose di richiamo. Durante l'estate scorsa, per 10 settimane consecutive, i contagi sono progressivamente diminuiti, ma dalla metà di settembre i nuovi positivi sono tornati ad aumentare, una tendenza che proseguirà nei mesi freddi. È un dato simile a quello che avviene un po' in Italia, ma che cosa significa? Che il covid circola. La consapevolezza che nelle prossime settimane, probabilmente seguendo l'antamento statistico, avrà un ulteriore aumento, mi rende opportuno un appello a tutti i cittadini toscani, soprattutto ai più fragili e alle over 60, di prenotarsi per la vaccinazione anti-covid, anche perché dobbiamo vedere questo con gradualità. Un richiamo, la quarta dose è opportuna. Secondo il presidente della regione Gianni, vaccinarsi è importante anche per ridurre nei prossimi mesi il rischio di sovraffollamento negli ospedali e nei pronto soccorso. Non è il covid che ci portava ad alti livelli di letalità, come quello che si manifestò due anni fa. Sappiamo che oggi è contrastato da un ampio livello di vaccinazione e anche di persone che il covid l'hanno avuto in prima persona e conseguentemente di fronte a una presenza degli anticorpi nella quasi totalità delle persone, è evidente che l'effetto è quello magari di cinque giorni, una settimana a casa e poi sostanzialmente scompare. Però questo non deve farci scomparire l'allarme sul covid. La regione toscana, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute, si è organizzata con le ASLE per la somministrazione dei cosiddetti vaccini anti-covid da mRNA bivalenti, ovvero adattati alla variante Omicron del virus. La priorità è stata data alle persone che hanno più di 60 anni, ai fragili per patologie concomitanti e preesistenti, agli operatori sanitari, agli ospiti e agli operatori delle RSA. Ma dal 4 ottobre i vaccini bivalenti sono accessibili a tutti, come detto dai 12 anni in su, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della terza dose oppure per chi si è ammalato di covid dall'infezione. Grazie a tutti.